jean de valois è un amico che vado a trovare ogni tanto risiede in un castelletto in riva al fiume in mezzo a un bosco si ritirò lì dopo aver vissuto per quindici anni un'esistenza da folle a parigi all'improvviso si stufò dei divertimenti e dei pranzi di gala degli uomini e delle donne delle carte da gioco insomma di tutto e andò ad abitare in quel suo possedimento dove era nato siamo in due o tre che ogni tanto andiamo a passare da lui quindici giorni o tre settimane e certamente è felice di vederci al momento del nostro arrivo e ancora più felice di rimanere solo nel momento della nostra partenza mi sono recato a fargli visita proprio la settimana scorsa e sono stato accolto a braccia aperte passavamo il tempo in parte insieme e in parte ciascuno per conto suo in generale durante la giornata lui legge mentre io lavoro e ogni sera rimaniamo a chiacchierare fino alla mezzanotte martedì scorso dopo una giornata soffocante verso le nove di sera eravamo seduti entrambi a guardar scorrere ai nostri piedi l'acqua del fiume ci scambiavamo qualche vaga osservazione sul firmamento e sulle stelle che si tuffavano nella corrente che sembrava nuotassero proprio lì davanti a noi le nostre osservazioni erano imprecise confuse e brevi perché la nostra intelligenza è molto limitata molto debole del tutto impotente io mi commuovevo per il sole che muore nell'orsa maggiore lo si vede solo nelle notti chiare tanto è impallidito e se il cielo è un po' nebbioso scompare agonizzante pensavamo alle creature che vivono in quei mondi alle loro forme inimmaginabili alle loro facoltà insospettate ai loro organi ignoti agli animali alle piante a tutte le specie a tutti i regni a tutti gli esseri a tutte le materie che la fantasia dell'uomo non riesce nemmeno a sfiorare a un tratto da lontano una voce gridò signore, signore Jean rispose sono qui Baptiste quando il domestico ci ebbe trovati annunciò c'è una zingara c'è la zingara del signore il mio amico si mise a ridere un riso folle abbastanza raro in lui poi domandò allora è il 19 luglio certo signore benissimo ti aspetti intanto datile da mangiare tra dieci minuti sarò in casa quando Baptiste se ne fu andato il mio amico mi prese sotto braccio camminiamo piano disse voglio raccontarti una storia sono passati sette anni era l'anno in cui arrivai qui uscii di sera per una passeggiata nel bosco era una bella giornata come oggi camminavo pian piano sotto quegli alberi contemplando le stelle attraverso le foglie respirando a pieni polmoni il fresco riposo della notte e del bosco avevo lasciato Parigi per sempre ero stanco disgustato in modo indicibile da tutte le cose sciocche vili sporche a cui avevo assistito e partecipato per 15 anni inoltrai molto lontano in questo fitto bosco seguendo il sentiero che porta sino al villaggio di Cruzil a 15 chilometri da qui all'improvviso blocco il mio grosso cane che non mi abbandonava mai si fermò di colpo e si mise a ringhiare pensai che nelle vicinanze ci fosse una volpe o un lupo o un cinghiale andai avanti pian piano in punta di piedi per non far rumore ma di colpo udì grida umane lamentose soffocate e strazianti di certo stavano assassinando qualcuno nella boscaglia mi mise a correre serrando nella destra un grosso bastone di quercia una vera e propria mazza mentre mi avvicinavo quei gemiti si facevano più distinti ma anche più sordi sembrava uscissero da una casa da una capanna di carbonaio forse bloc tre passi avanti a me correva e si fermava riprendeva a correre molto eccitato e sempre ringhiando poi un altro cane un grosso cane nero dagli occhi infuocati gli sbarrò al passo vedevo benissimo le zanne bianche che brillavano nella sua bocca corsi verso quella bestia col bastone in aria ma bloc gli era già saltato addosso le due bestie rotolavano a terra coi denti serrati l'uno sulla gola dell'altro passai avanti e per poco non urtai un cavallo colicato sul sentiero mentre molto stupito mi fermavo per rendermi conto scorsi davanti a me un carrozzone con le ruote una di quelle case da zingari e mercanti che vanno in giro nelle campagne di fiera in fiera le grida venivano di là terribili, continue poiché la porta era dal lato opposto feci il giro del carrozzone e sali in fretta ai tre gradini pronto a scagliarmi su cui stava compiendo un delitto quando vidi mi sembrò talmente strano che in un primo momento non compresi niente un uomo in ginocchio sembrava pregasse mentre sul letto che quella scatola riusciva a contenere una cosa indecifrabile una creatura mezzo nuda e tutta contorta di cui non mi riusciva di vedere il volto si agitava urlava tremava era una donna in preda alle doglie appena capì l'origine di quegli urli manifestai la mia presenza e l'uomo marsigliese in preda alla disperazione mi supplicò di venire in loro aiuto promettendomi con un fiotto di parole in peritura riconoscenza non avevo mai assistito a un parto ma il soccorso una femmina donna, cagna o gatta che fosse in simili circostanze e in un momento lo dichiarai osservando stupito l'essere umano che stava gridando con tanta vehemenza in quel letto poi una volta riacquistato il sangue freddo chiesi all'uomo stremato perché non fosse andato a chiedere aiuto al vicino villaggio ma il cavallo caduto in un avvallamento del sentiero doveva essersi rotto una gamba e non poteva più rialzarsi e allora amico adesso siamo in due gli dissi porteremo vostra moglie fino a casa mia l'abbaiare furioso dei due cani ci costrinse ad uscire dovemmo separarli a colpi di bastone con rischio di ammazzarli poi mi venne l'idea di attaccarli al carro con noi uno a destra e l'altro a sinistra tra le nostre gambe per aiutarci in dieci minuti tutto fu pronto e il carrozzone si mosse con lentezza scuotendo agli urti dei profondi solchi della strada la poveretta dai fianchi straziati dal dolore che strada caro mio procedevamo ansimando rantolando sudati scivolando e qualche volta cadendo a terra mentre i nostri poveri cani sbuffavano come mantici tra le gambe furono necessarie tre ore per arrivare al castello e quando arrivammo davanti al portale nel carrozzone le grida erano cessate madre e neonati erano sani e salvi li coricammo in un buon letto poi fece attaccare i cavalli per andare alla ricerca di un medico mentre il marsigliese rassicurato consolato trionfante mangiava da soffocarsi e subriacava per celebrare il felice evento era una femminuccia trattenne quella gente per otto giorni in casa mia la madre l'elmir era una veggente sonnambula mi pronosticò una vita interminabile e innumerevoli felicità l'anno dopo lo stesso giorno di sera il domestico che mi ha chiamato poco fa venne a cercarmi in salotto dopo cena e mi disse c'è la zingara dell'anno scorso che viene a ringraziare il signore ordinai che la facessero passare e rimasi stupefatto vedendo al suo fianco un giovanottone alto e biondo tipicamente nordico il quale dopo avermi salutato prese la parola quale capo della piccola comunità aveva saputo della mia bontà nei confronti di elmir e non aveva voluto che la ricorrenza passasse senza portarmi i ringraziamenti e la testimonianza della loro riconoscenza offri loro da mangiare in cucina e ospitalità per la notte ripartirono il giorno dopo e adesso quella povera donna torna tutti gli anni alla stessa data con la piccola una bimba bellissima e un nuovo compagno tutte le volte solo uno di questi uno dell'alvernia che mi ringraziò moltissimo ricomparve per due anni di seguito la piccina li chiama tutti babbo così come noi diciamo signore eravamo arrivati al castello scorgemmo confusamente in piedi accanto al portale tre ombre in attesa la più alta avanzò di quattro passi e fatto un grande saluto disse signor conte siamo venuti in questo giorno come sapete a farvi testimone della nostra riconoscenza era un belga questa volta parlò dopo di lui la piccolina con la voce artefatta dei bambini che recitano un complimento io intanto facendo la parte dell'ignaro tirai da parte la signorina Almir e dopo qualche frase di circostanza le chiesi è il padre di vostra figlia oh no signore il padre è morto oh no signore ci vediamo ancora di tanto in tanto fa il gendarme allora non era il marsigliese il primo quello che era con voi al momento del parto oh no signore quello era un mascalzone che mi ha fregato tutti i miei risparmi il gendarme il padre vero conosce sua figlia certo signore e le vuole bene anche ma non può occuparsene perché ha altri marmocchi con sua moglie quindi e le vuole bene anche perché no non che le vuole bene anche Grazie a tutti